Sì, è una giornata molto importante per tante persone che avevano consentito il funzionamento delle nostre strutture sanitarie senza avere un contratto al quale avevano diritto. Finalmente, grazie al risanamento delle finanze, della sanità pugliese, della regione Puglia e soprattutto grazie al piano di riordino, perché senza piano di riordino non ci avrebbero autorizzato a fare queste stabilizzazioni, ma senza quelle riconversioni sarebbe stato impossibile non solo fare queste stabilizzazioni ma assumere i 2.000 medici e i 3.000 operatori sanitari che stiamo per inserire nel nostro sistema. E questo ovviamente è una grande soddisfazione perché questa è gente motivata che ci ha dato già tantissimo. Voi immaginate che in soli due anni abbiamo recuperato 10 posti nei livelli essenziali di assistenza. Da essere la penultima regione italiana, siamo tra le prime 6-7 regioni italiane dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza, lo abbiamo fatto con 15.000 unità di personale in meno e 800 milioni di fondo sanitario in meno rispetto all'Emilia-Romagna che è una regione più o meno con gli stessi abitanti nostri. Quindi questi ragazzi e queste ragazze hanno fatto i miracoli. Adesso si godano la loro stabilizzazione, significa che molti di loro potranno pensare a mettere su famiglia, ad alzare gli indici di natalità della Puglia che l'anno scorso ha fatto meno figli che nel 1860. Quindi vuol dire che il lavoro è fondamentale per dare il futuro alla nostra regione e mi auguro ovviamente che con l'immissione del nuovo personale i nostri sogni di portare ancora più in alto il sistema sanitario pugliese possano essere raggiunti.